Per uno come me che ha messo Pietro a Coverciano per la prima volta nel 78 con l'Under 14 credo arrivare e diventare allenatore della Nazionale credo che sia la cosa più bella. Penso che l'Italia possa avere una buona Nazionale forse anche prima del 2020 perché vedo molti giovani bravi che verranno fuori quindi è possibile. Fare allenatore della Nazionale è una cosa molto importante, molto bella. Credo che ogni allenatore poi alla fine aspira a diventare Ct della Nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra squadra è una squadra che ha iniziato da poco e quindi deve migliorare tantissimo. Quando ci arriverà a certi livelli la squadra dovrà rispondere al meglio dove noi dovremmo cercare di migliorare molto, molto proprio come squadra per capire veramente dove potremmo arrivare. La strada per il momento è buona quindi le cose stanno andando bene e noi dobbiamo cercare di continuare a far andare così. Grazie. 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 Grazie.